Il sentore che in questo momento è come quando fai la cavolata con la nutella e inizi a mangiare la cucchiaiata. Allora abbiamo appena comprato questi. Completamente inutili ma bellissimi. Si contenta? Molto. C'è neanche la scrittina 7-eleven. Allora, giorno numero 5. Cominciamo dalla colazione. Adesso vi mostro come si fa la colazione fatta bene perché ieri avevamo un po' di fretta. Se non avete visto il video andate a vederlo perché ho parlato della Penn State University, questa. E niente, oggi trasferimento. Andiamo a Washington. Questo è il posto che è molto carino. Qui c'è un enorme fuoco. Quella è Cristina. E qui il caffè. Iniziamo da qua, ma il caffè. Abbiamo immancabili i cereali, ovvero i frutti. Ci sarebbe anche della frutta, ma si è venuta un po' tardi, quindi è già stata spazzata. Quindi non mangeremo frutta. Qua abbiamo un reparto di succhi e lattini e yogurtini. E niente, è una colazione sana e... ecco. Comunque, allora, stiamo lasciando la ridente località, qui ci troviamo? Campania di Penn State. Campania di Penn State. Per andare adesso a Washington DC. E niente, sono qui cinque ore di viaggio, più o meno. No, in realtà sono tre, non ci metteremo cinque perché ci fermiamo in un schifolissimo pass-food. A accumulare del grasso. Giusto. E basta. Comunque vi lascio delle clip del viaggio fino là. Ecco, ci vediamo oggi. Dai, ciao. U.S.A. 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 Siamo venuti in questo posto. Un diner trovato sulla strada. Maybe close 2.30 per le 2.3. Sono luna, quindi direi che è un po'... Andiamo? Siamo. Siamo. Ah! Sì. 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 Ma che polemia. Non è questo? È arrivato il cibo. The Tigers. No. No. Le patate. Mi piacciono le tue patatine. No. Allora, buongiorno. Piccola pausa pre-Washington. Qui mancano, boom, una cinquettina di chilometri. Ci siamo fermati nel... Nel Vermont. No. Cazzo io che siamo. Nel Wyoming. Boh, da qualche parte vicino a Washington. E... Perché abbiamo visto questo posto, che si chiama... Pfaffel House. Ed è esattamente questo sopra. E chi siamo noi per non andare a provarlo? E... Poi ci scappa anche la pipì. E ci proviamo un caffettino. E io mi sto scottando. Niente. Comunque ogni quattro ore, più o meno, ne abbiamo bisogno di zuccheri. Perché abbiamo sviluppato una dipendenza ormai. Quindi... Zoccherò. Allora. Prenderemo un Classic Pfaffel. Da 410... Solo 410 calorie, purtroppo. Ma quindi allora lo maggioriamo mettendoci dentro anche della filibota. E' bello che c'è una vista. In terra si è molto pulito qua. Ti devo scegliere le vela. Cosa? Le tazzine? Questa è bella e caccia. Guardate. Ecco. È arrivato il nostro... Cos'è? Per dire? Questa sia prima pata. Questa è prima pata. Questa è prima pata. Qua è nacida. Ah, è la crema quella... È pata. È pata. È pata. Il sentore che in questo momento è come quando fai la cavolata con la nutella e inizi a mangiare la cucchiaiata. Che poi si trasformerà in inferno tra poco mal di pange. Vuol dire oh mio dio perché l'ho fatto. Però al momento è bello. Allora abbiamo appena comprato questi, completamente inutili, ma bellissimi, si contenta? Molto! Allora sono rassegnata, molto triste perché il mio compagno di viaggio ci fa prendere tutte le inculate possibili, immaginabili che si possono prendere, ha speso 102 dollari di parcheggio per tre giorni, tre notti, per tre notti, 102. Perchè ho avuto fretta, ma, ma, siamo a Washington, si può vedere, guardate scherzi, eccoci finalmente a Washington DC, è bellissima questa città, e purtroppo torniamo a non avere la colazione inclusa, quindi andiamo qui a prenderla, che non è una farmacia, ma c'è anche roba da mangiare male, ed è un grandissimo modo per risparmiare soldi, visto che con l'inflazione i prezzi fatto boom, e le colazioni in America costano un sacco perché è un pasto grosso e grasso, quindi sono almeno 30 dollari a testa. Qui, con 10, 12, mangiamo in due. Allora facciamo il room tour della camera 315 dell'albergo di Washington, questo come si presenta fuori. Entriamo e abbiamo una bellissima velina, che si scomporta nel suo abitare naturale, ovvero quello di mangiare le L.A. Salcedda, e anche un po' donna da fare perché c'è un computer. Allora, a nostra destra, più destra, abbiamo un televisore moderno, L.G. piatto. Qui c'è una sorta di dependance per il lavoro da casa, qui c'è un deposito per lasciare tutti i propri indumenti una volta che si arriva a casa stanchi dal lavoro. Poi andando, proseguendo in questa umile dimora, abbiamo un condizionatore di ultima generazione, un bagno moderno, e qua c'è una fantastica e simpatica vista su un cortile, un parcheggio che potevamo prendere a 38 dollari in aggiunta alla camera, invece mi apreva, oh, ho rovinato tutto perché ho avuto fretta. Eccoci, no, devo fare tutto il coso, deve essere così guardinga, così terrorizzata, perché? Una paura atrocia, veramente? Per cosa? Che qualcuno esca, ti faccia pompa. Sì, perché dovete sapere che quella è la Casa Bianca. Ci sono delle guardie, ci sono delle transenne, lì ci sono delle macchine con dentro persone che non si vedono, che potrebbero potenzialmente disintegrare qualsiasi persona qua. Eccoci, allora siamo davanti, là c'è l'obelisco, c'è il Campidoglio che stasera non è ancora stato assaltato, per fortuna. Poi qua davanti c'è Lincoln Memorial, comunque è qua, qui così, esattamente il posto dove Martin Luther King ha fatto il famoso discorso, I have a dream. Ehm, è successo? Era da un po' che non mangiavamo, quindi siamo venuti da Popeye's, che è tipo il Campidoglio che è 100 volte più buono. Dei nuggets da 12, che sono tipo, così, delle patate e dei gamberetti. Sono buoni, no? Molto buoni, cioè l'impanatura è devastante. Poi lo fritto, mi sento già un fratello. E alla fine si mangia a vedere il monumento, ho parlato a Martin Luther King, quindi ci stavamo passeggiando. ありますci io! Ciao! Ciao!